Gli ultimi due elementi del processo decisionale che dobbiamo analizzare riguardano da un lato le modalità di interazione e dall'altro l'ambiente decisionale. Le modalità di interazione sono molto importanti nel senso che le relazioni tra gli attori possono determinare gli esiti di una decisione o di un processo decisionale anche a parità di tutte le altre condizioni. Qui però bisogna fare immediatamente una distinzione. Quando parliamo di modalità di interazione non parliamo delle procedure legali che in quasi tutti i paesi democratici presiedono la presa di decisioni pubbliche. Queste procedure sono spesso accusate di essere principali responsabili dei ritardi, delle difficoltà a decidere, degli stalli decisionali. Tuttavia bisogna ricordare che nel nostro modello queste procedure di fatto attribuiscono delle risorse legali agli attori e quindi la decisione degli attori di utilizzare le procedure che influenza l'esito del processo decisionale. Le procedure automaticamente non degenerano alcun effetto. Quando parliamo di modalità di interazione in realtà ci stiamo riferendo a come si scambiano le risorse tra di loro gli attori. Infatti, come ricordiamo, il processo decisionale consiste nell'interazione tra attori che si scambiano le risorse a loro disposizione. Esistono tre principali modalità di interazione. La prima modalità è quella che chiamiamo contrapposizione o confrontation. Attraverso questa modalità gli attori pesano le risorse a loro disposizione e chi ha più risorse vince nel gioco. L'esempio che possiamo fare è quello del gioco del poker dove appunto il giocatore che ha in mano le carte più alte vince l'intera posta. La seconda modalità di interazione riguarda invece lo scambio di risorse, quello che noi chiamiamo negoziazione, in inglese bargaining. In essa gli attori si scambiano le risorse. Classico esempio è ovviamente entrare in un bar e ordinare una tazzina di caffè. Il barista mette a disposizione le sue risorse, e cioè la tazzina e la bevanda, e il cliente paga il prezzo convenuto. La terza e ultima modalità di scambio delle risorse è invece la collaborazione. In questo caso i vari attori mettono insieme le loro risorse al fine di raggiungere un obiettivo. È evidente che mentre nel primo e nel secondo caso gli attori hanno degli obiettivi diversi, nel primo caso chiaramente hanno degli obiettivi diversi, tutti vogliono vincere e nessuno vuole perdere. Nel secondo caso il barista vuole vendere il suo caffè e il cliente vuole consumare il suo caffè. Nel terzo caso, e cioè nel caso della collaborazione, perché si possa dare questa modalità di interazione, occorre che gli attori abbiano obiettivi comuni o comunque congruenti. Infine, va ricordato che mentre nel primo caso la scelta di ricorrere alla contrapposizione può essere presa unilateralmente da un singolo attore, negli altri due casi occorre che gli attori siano d'accordo, sia per negoziare, e cioè per scambiarsi le risorse, sia per collaborare, cioè per mettere le risorse insieme. Se ora ci riferiamo al contesto decisionale, esso è composto da quegli elementi e da quelle condizioni che influenzano il processo, che possono determinarne gli esiti, ma che per definizione non possono essere autonomamente modificate dagli attori. Quando parliamo di contesto decisionale parliamo di elementi molto differenti. Ad esempio abbiamo il contesto cognitivo, vale a dire la cultura dominante in una società che può rendere possibile, facile, difficile, impossibile una determinata scelta di policy, oppure l'opinione pubblica, che naturalmente può mutare da un momento all'altro, ma che però in un certo determinato periodo, in un singolo momento, condiziona le scelte degli attori. In secondo luogo abbiamo il contesto economico, il contesto evidente che è più facile prendere certe scelte quando l'economia va bene e prendere altre scelte quando invece si è in una fase di recessione o di crisi economica. Ma pensiamo anche alla struttura di una società, una società industriale ha probabilmente delle possibilità che sono differenti da una società agricola e così via. infine abbiamo quello che chiamiamo il contesto istituzionale, cioè i principi generali contenuti o meno nelle costituzioni di un paese che condizionano le attività degli attori. Qui non si tratta tanto di risorse legali che possono essere utilizzate o non utilizzate, ma dei principi sulla base dei quali le leggi vengono interpretate dai tribunali, dalle corti e in generale vengono usate nei processi di decisione politica. Quindi analizzare l'ambiente significa soprattutto chiedersi quanto quelle determinate condizioni sono o meno stabili. Possiamo avere così un ambiente stabile, nel quale non ci sono modifiche significative dei fattori e delle condizioni che influenzano il processo decisionale, o possiamo avere invece un ambiente turbolento in cui improvvisamente i sistemi possono cambiare o collassare e quindi si rendono possibili scelte che in altri periodi non sarebbero possibili. Oppure in uno stadio intermedio possiamo immaginare una progressiva evoluzione verso certe direzioni che possono essere in qualche modo prevedibili da parte degli attori. L'analisi del contesto e soprattutto della sua stabilità è importante perché consente di immaginare se e quando si apre un periodo nel quale quella decisione, quella innovazione, quella decisione non incrementale o addirittura radicale può essere presa. L'autore che ha particolarmente studiato questo elemento è un autore americano che si chiama Kingdon, il quale usa una metafora molto bella per spiegare che cosa deve fare l'innovatore per cercare di cogliere il momento giusto. Egli dice che un riformatore è come uno che pratica il surf nell'oceano e che sta sulla sua tavola aspettando che venga l'onda giusta. Se l'onda arriva può svolgere la sua attività di surfing, se invece prende un'onda sbagliata deve probabilmente ricominciare tutto da capo. Questo elemento, e cioè l'elemento quando si aprono le finestre di opportunità per poter introdurre delle riforme radicali, è un elemento essenziale nella costruzione di strategie e da questi argomenti verranno dedicati i prossimi interventi. Grazie.